Gravissimo incidente stradale dall'esito mortale questa mattina alle 10.30 sulla Ferrata nel territorio di Morsano al Tagliamento, provincia di Pordenone. All'incrocio tra la SP40 e le strade laterali via Vencheredo e via Vidimana ha perso la vita un noto impresario edile. Si chiamava Esmalt Dante Bianchi, ormai in pensione, era nato il 26 giugno del 24 e risiedeva in via Mercurio a Morsano. Si è scontrato al volante della sua Fiat Regata 70 con un camionista di Cosenza che al volante del suo mezzo pesante con rimorchio stava trasportando mais. L'auto di Bianchi è stata scaraventata nella fossa più vicino a via Vencheredo. Per l'ottantotenne non c'è stato nulla da fare, la morte è sopraggiunta all'istante. Sul posto si sono portati gli agenti della postata di Spilimbergo, pompieri di San Vito, i carabinieri della vicina base aeronautica di Cordovado, la polizia locale di Morsano. A causare il sinistro una mancata precedenza. Esmalt Dante Bianchi era conosciuta a Morsano per aver costruito molte abitazioni private nel periodo post terremoto dal 76 all'81. Lascia nel dolore una figlia avvertita nel cuore della notte australiana a Sydney dove vive da molto tempo. Sul posto si è presentato il fratello Giuseppe, scandalizzato per la pericolosità di quell'incrocio dove il congiunto ha trovato la morte. Coscluiscono sempre molte rotatorie, chissà perché proprio lì dove si verifica almeno un grave incidente all'anno non c'è.